ma te ne vai io c'ho una che ti ho contestato te ne vai te posso dire una cosa da uomini dammi il circo te lo sogniamo io parlo apertamente ho 57 anni tu hai capito poco di Roma perché tu potevi essere imperatore avete capito bene voi? no abbiamo sbagliato noi abbiamo sbagliato se noi ti diamo il cuore abbiamo sbagliato noi abbiamo sbagliato noi abbiamo sbagliato e che vuol dire? te diamo il cuore noi? che vuol dire? che vuol dire? dammi la mano Pablo grazie Pablo non mi fai farire pablo tu devi essere più di poco sbagliato che noi ti diamo il cuore ti diamo tutto abbiamo sbagliato noi abbiamo sbagliato noi abbiamo sbagliato e che vuol dire? te diamo il cuore guarda ecco grazie è bello è grosso pablo non è andata però eh taglio ma ne è Roma Daniel io c'ho una che ti ho contestato te ne vai? ti posso dire una cosa da uomini? da uomini? dammi il circo ti posso dire una cosa? signor grazie io parlo apertamente c'ho 50 o 70 anni vengono di fuori tu hai capito poco di Roma perché tu potevi essere l'imperatore? tu potevi avete capito bene voi? no eh siamo sbagliato noi eh rimane a Roma Daniel rimane a Roma pablo eh vado a parlare alla signora pablo oh ma te ne vai